È un incontro che reputo importante, anche perché nel mio istituto, nella mia unità, ci sono tanti giovani. La mia unità è fatta di tanti giovani. I giovani non sono il futuro, sono l'oggi. Loro ci mettono passione, entusiasmo nell'attività e molti dei nostri successi sono dovuti proprio all'attività. Quindi avere un confronto con i giovani, i quali hanno sempre una fame di sapere interminabile, è che è un bene, è un bene perché gli stimola. Oggi è stato importante perché ho cercato anche di spiegare cosa significa il lavoro del ricercatore, che è un lavoro che soprattutto per i giovani significa sacrificio. Ma lì si possono mettere a frutto quelle che sono delle idee, perché le idee attraverso la passione, la determinazione e poi dopo vengono sempre, sono sempre ispirazioni di cose buone alla fine. C'è un messaggio molto importante che viene da Giffoni. Tante manifestazioni hanno chiuso, non sono state effettuate. Giffoni non ha chiuso. Giffoni ha preferito rimanere aperta anche se lo ha pagato in termini di sacrifici. Che voglio dire? Ci sono dei protocolli di sicurezza molto importanti, ovviamente, che poi limitano anche il numero delle persone, delle possibilità di intervento, però è rimasta. Quindi il messaggio è noi possiamo convivere con il virus. Si può convivere. Si può convivere, si può continuare ad andare avanti facendo le cose che abbiamo fatto. Certo, c'è qualche sacrificio, però pazienza. Pazienza. Il momento lo facciamo in questo modo, poi l'anno prossimo ritorneremo alla normatica. Credo che questo sia un messaggio importante, perché, ed è quello che purtroppo molti non hanno capito, noi abbiamo avuto delle riaperture graduali e abbiamo sempre avuto timore che ci potesse essere l'inizio della seconda ondata. Noi abbiamo visto che non è così. Dopo la riapertura del 3 giugno, tutto sommato, abbiamo visto che potevamo farcela. Certo, con sacrificio, mascherina, distanziamento fisico, igiene delle mani, ma sono state riaperte tante attività. Quindi ci si può fare, lo possiamo fare. E quindi credo che questo sia un messaggio importante che viene da Giffoni. Giffoni resta aperta con tutto ciò che dobbiamo mettere in campo e in atto per contenere le infezioni, ma la vita continua. Conviviamo con il virus fin quando non avremo un vaccino o un trattamento che risolve il problema. Assolutamente Giffoni può essere un laboratorio che può insegnare a giovani il momento particolare e come comportarsi e come continuare ad andare avanti. Perché questo è il messaggio che ho visto oggi. Certo, la sala non era piena. C'erano, diciamo, molti meno ragazzi rispetto alle edizioni passate, ma c'erano. Quei ragazzi c'erano. Quei ragazzi erano tutti con la mascherina, ma quei ragazzi avevano, nonostante la mascherina, la stessa voglia di conoscere, di sapere e di chiedere. Quindi io credo che questo sia importante, perché quei ragazzi hanno imparato che nonostante tutto, nonostante il Covid, con una mascherina, con il distanziamento, hanno potuto comunque assistere a un evento, partecipare a un evento, avere anche delle idee. Speriamo che le idee che durante questi giorni loro in qualche modo avranno, possano poi dopo metterle a frutto. Quindi la vita va avanti, si può convivere, messaggio positivo, comunque facciamo attenzione.